Sono stati consegnati all'assessore toscano ai trasporti Vincenzo Ceccarelli i primi due treni rock di Trenitalia, parte del pacchetto di 100 nuovi treni previsti dal contratto di servizio 2020-2034 da 1,4 miliardi di euro, sottoscritto con la regione toscana e finalizzato al completo rinnovo della flotta ferroviaria. Nelle immagini vedete la consegna dei convogli. I nuovi treni, realizzati negli stabilimenti Itaci di Pistoia, sono a due piani, raggiungono i 160 km orari e sono dotati di 600 posti a sedere, 4 per le persone con difficoltà di movimento, portale intranet, finestrini più ampi, 9 posti bici e 50 videocamere a circuito chiuso. Tanto questi nuovi treni sono veramente il simbolo della ripartenza, ripartenza dopo questa pandemia, una ripartenza che è fatta anche di cambiamento, quindi treni nuovi, maggiormente confortevoli, accessibili alle biciclette, con maggiori spazi per quanto riguarda i bagagli, ma anche maggiore attenzione all'ambiente e quindi maggiore sostenibilità. I nuovi treni entreranno subito in servizio sulle linee ferroviarie Firenze-Siene e Firenze-Arezzo e saranno sanificati quotidianamente come previsto dalle norme anti-Covid. Appositi segnali indicheranno i sedili su cui sedersi per mantenere la distanza di sicurezza e le porte da cui salire e scendere. Questi treni che oggi vediamo sono treni che sono attrezzati con tutte le misure di sicurezza perché la nostra priorità è la tutela della salute delle persone che trasportiamo ma anche delle persone che lavorano con noi in azienda e quindi è previsto distanziamento a bordo quindi con sistema di occupazione a scacchiera sono previsti dei percorsi che permettono di entrate e di uscita differenziate appunto per evitare contatti. Con la progressiva introduzione dei nuovi treni la flotta passerà entro il 2024 da un'età media di 16 anni a una di 7,6 anni. Grazie a tutti.